Grazie Presidente. Io sono convinta che noi siamo qui per fare la cosa giusta e la cosa giusta per noi è dare risposte alla città, essere in grado di dare risposte alla città, essere in grado di tutelare i cittadini italiani, essere in grado di tutelare i cittadini romani e anche le persone che vengono accolte in questa città. E penso che per il rispetto di questi principi noi voteremo favorevolmente a questa mozione. Grazie.